bella vecchia per l'intervento e la leggera se vuoi che la stagione è bella e la leggera un nuovo vabbè quando è vero che il valentino bella vecchia mi sono visto di con questo video in particolare siamo qui che sono sicuro questo video con la cosa e faremo squadre casuali 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 un animo 2 3 1 2 3 a a a a a o a a a a a a a a la cosa non ho avuto oggi ogni cosa sarà un cazzo otto ma non c'erci ma non c'erci ma non c'erci ma non mi fa piacere non c'erci un'esercizio o ho preso si fa il mio esame paura 12 nevese leggende augmente se non vedete tutte le tue cazzo persino non è c'è vero e te lo dai, te lo dai tutte e due d'amor a casa, non ti ho cazzonno gareth! non va chi? 1 2 3 ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah l'apparecchia per gli altri più 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 ampia ho 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 perciò che c'è il cagli gara per favore di me alzato visto che se non apparecato il valore di percorso percorso un bel un bel chi è che deve essere così ma la vostra per i piedi del sito cittadino maio prendi il fredditio nella prima data la rosa ronald o arresto provare al do provare al do lato and all eggione roma ii roma appoggiato basta basta piano 1 2 3 ancora festeggiando un pochettino 80 minuti eccolo settimane che fate oh te l'ho detto te l'ho detto oh fanno rigore benissimo gareth bale benzeva va bene comunque benzeva ahahah 25 dai il fuori si allora fuori ok guardate 1 2 3 3 4 3 4 5 6 6 5 cazzo di metà, no no no, ho distrutto questo bel in merda sei cazzotti hai detto, eh che è in maniera? se ne va se ne va se ne va vedi mezzo passa il cuore di una meta vatti cazzo tu hai? ma tira vabbè noi adesso andiamo a Dan Serdum non per Van Gogh ma per farci le canne fra te oooh l'ho detto numeri sono numeri si si vado a Dan Serdum e vado anche a Rotterdam e mi faccio le canne sotto un gobo di Rotterdam e ti ho detto e ti ho detto e Messi e Messi come fa? ah non ce l'hai messi aaaaa ed era questo cappello chi era il forte? e vai 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 guarda questo coso ma te lo ti regalo per il bambino chi è che ha questo coso? sei grato bello regalare non c'è partita no cosa è? ma vai uno e due e due assurid guarda un gol bello beh è bello è stato un gol 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 no ma sei fa una skill bravo 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 mi sei fatto tu vero fai se ti prendi un gol per chi ha dovete salvi sempre olè non mi faccio il gol di me ma con te me so star c'è 10 giochi su cariii cariii doppietta doppietta vabbè sempre insieme ho uno una volta scusami uuuuuh chi è il più forte? chi è il più forte? grillo vai dillo vai muote il peccazzotto dove? qua qua più cd somma si ottugno se lo andava a finirlo pensavo becca questo frano mangio sono andato su managgia a me oh eh si ci vuole 5 minuti recupero e poi puoi riposarci un pochetto eh ma non troppo non troppo no perchè prima no non lo può fare no che dreck vabbè che dreck è qua allora vai da stamattina basta pure solo il primo tempo eh da dove siamo amici? vabbè diciamo quanti non è che te ci siamo nel secondo tempo 3 4 ma il doppio deve cioè il doppio dei quanti non so non lo so non lo ha detto la pace è una cosa di importante ti fa anche volerci anche per noi si è in pace e diamoci un bacio 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 pace pace amore ok e giustizia ok allora quanti avete presi? diciamo allora tanto facciamo questo qua questo qua stupore e poi quanti avete presi? vabbè io l'ho fatte 6 no 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 ah quindi per questo io ho fatto tutto quanto vi ricordo di arrivare a tantissimi like eeeh c'ho le gaccolette che mi sa l'occhio pensi che c'ho paura ah non sono occhio spera di metterare che c'ha inizio un live lo dico apre la finestra io urlo qua c'è pure la pula pula dai urla lo sai dove stanno qua lo sai che saldi per un baccasio di ladri lo sai che qua si trottiamo i figli e quindi che puoi urla quanto ti fare tanto non ti senti manco giro vabbè eeeh per questa volta è finita qua stai a casa di vipa avrete la rivincita prima o poi eeeh prima o poi si avrete la rivincita magari tutta la partita intera lui ha riacceso la prima che sbaglio mi raccomando 5000 like per questo video e conferiamo ancora di Botteglaus dai gran anas è tutto oh ciao 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 ciao